Sono Guido Orzalesi e sono il direttore generale di Castello Laleccia a Castellina in Chianti. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è che abbiamo a che fare con la natura e con la natura non ci si annoia mai. Ogni anno è diverso dall'altro e ci dà sempre stimoli diversi e rende interessantissimo il lavoro di tutti i giorni. I piccoli dettagli che cerchiamo di seguire sono tutte le cose che possono fare la differenza nell'ottenere il risultato finale. Dalle operazioni in cantina a un'attentissima manutenzione e cura del vigneto e della campagna. La nostra principale filosofia è prendersi cura di ogni piccolo dettaglio e cercare di fare il nostro lavoro in modo da ottenere un grandissimo risultato alla fine. Cerchiamo soprattutto l'eleganza del Sangiovese. Quello che ho imparato in questi lunghi anni di lavoro è sicuramente sempre un'enorme modestia perché rispetto alla natura e rispetto al territorio dove siamo e ai vitigni con cui lavoriamo dobbiamo essere sempre molto attenti ma soprattutto molto modesti in modo da poter cogliere e apprezzare sempre tutte le occasioni e le diverse cose che ci capitano perché abbiamo a che fare con la natura. Grazie 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 Grazie